Il Governo nazionale pensa ad un rinvio delle elezioni regionali, comunali e a termini più lunghi anche per il referendum a causa dell'emergenza coronavirus. In una bozza del decreto, in vista del prossimo CDM, tra le ipotesi della Presidenza del Consiglio, si interviene sul mandato degli organi elettivi regionali che scade entro il 31 luglio 2020, prorogando di tre mesi visto il rischio sanitario. Le elezioni dei consigli comunali, oltre mille comuni, tra cui 15 capoluoghi di provincia e 4 di regione, sono invece fissate in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020. Di fronte al moltiplicarsi dei contagi, il rinvio delle amministrative di primavera era già stato ventilato come una possibilità. Finora non c'era stato nessun confronto ufficiale tra le forze politiche della maggioranza, si trattava solo di congetture di cui però nei palazzi si parlava sempre più insistentemente. Termini più lunghi anche per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, il termine entro quale indetto è fissato in 240 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso, rispetto alla forbice tra i 50 e i 70 previsti. Il referendum verrebbe indetto, secondo la bozza, entro il 19 settembre e una nota tecnica del Ministero per i rapporti con il Parlamento spiega che la ultima data utile sarebbe quindi il 22 novembre 2020. E in merito alle indiscrezioni sul regionale referendum, fonti di Palazzo Chigi spiegano che nessuna decisione è stata deliberata dal governo e che qualsiasi scelta in questa direzione sarà assunta solo dopo avere consultato le forze politiche di maggioranza e di opposizione, nonché coinvolgendo le stesse regioni nel pieno rispetto delle loro prerogative costituzionali.